Sono contenta di questa iniziativa che ha avuto Rochelle Gilmore, un'iniziativa molto professionale che credo che nel mondo del ciclismo femminile mancava una squadra improntata in questo modo seguendo le orme delle squadre professioniste maschili. È stata una stagione dura per le Olimpiadi e credo che siano mancati qualche successo e spero che un po' di rabbia agonistica che ho accumulato l'anno scorso io possa sfogarla quest'anno nel 2013. Di sicuro ci saranno nei grandi obiettivi i mondiali su pista di fine febbraio nella corsa punti e poi mi piacerebbe fare un buon giro d'Italia, cercare di vincere qualche tappa e prepararmi al meglio per il mondiale che il prossimo anno sarà in Italia. Credo che la cosa migliore per migliorare il ciclismo femminile nel mondo sia creare più eventi e più corse per noi donne e sicuramente associarle a quelle dei professionisti. A noi donne, oltre al giro d'Italia, non abbiamo una gara a tappe internazionale di così alto livello e ci manca un Tour de France. Credo che per le ragazze giovani la miglior cosa che possono fare è avere pazienza, perseverare nei loro obiettivi e cercare di imparare dalle ragazze più grandi che danno loro tante possibilità di crescita. E l'umiltà credo che sia la miglior dote che una giovane possa avere.